ragazzi petraghi ha consegnato le dimissioni si dice consegnato vabbè si ha mandato la richiesta di dimissioni al torino al torino e questo che vuol dire e ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video qui è pablo giallorosso allora spero che la qualità dei video sia superiore perché ho cambiato telefono e questa c'è una videocamera con più megapixel quindi con più risoluzione e quindi però questo poco importa perché a cambiare potrebbe essere anche il destino di petraghi il direttore sportivo del torino da dieci anni in granata ha fatto grandi cose con quella squadra ha portato in europa league l'anno di ventura poi ventura si è rovinato la vita con l'italia però vabbè faccio bene e ha portato di giocatori importanti al torino come immobile come il cerci hanno fatto benissimo poi anche successivamente sirico ragazzi sirico stanno facendo due campionati col torino strepitosi l'ha preso la pari saint germain poi ha portato anche altri giocatori importanti come belotti jago falche con cui si sta facendo bene in un periodo era riuscito a portare anche lì aic art insomma tanti giocatori importanti in questi dieci anni ha fatto crescere secondo me il torino quest'anno hanno sfiorato anche l'europa quindi un direttore sportivo che giovane che già esperienza ha fatto bene col torino ha consegnato le dimissioni a cairo adesso cairo deve scegliere se appunto non so se quando uscirà il video già avrà scelto ma il concetto del video è anche altro di accettare le dimissioni perché non è che uno sentimenti se ne va ci stanno vari processi deve passare tutto per il presidente che può anche scegliere di far restare vincolato il direttore sportivo alla stessa società in quel caso la roma deve inserire i soldi se vuole prendere se petraghi non si sa se petraghi verrà alla roma ma diciamo con molta probabilità sì e manco è arrivato alla roma e già ha venduto mezza squadra secondo i giornali non è possibile se passano tranquilli secondo i giornali poi non so se le cose si realizzeranno o meno però cavolo stiamo a maggio il calciopercato deve ancora iniziare il campionato deve ancora finire petraghi deve ancora firmare ma secondo i giornali petraghi ha già venduto zagnolo ed escerà quella juve perché notizia di stamattina non so da chi è trapelata la roma sta vendendo dato che escerà vi secondo i giornali non rinnoverà con la roma viste le richieste elevate e questo qui però sono altri discorsi si parla di uno scambio con la juve oppure non so dove vogliono mandare scerapi quindi secondo i giornali scerapi va la juve zagnolo va la juve manolasse va la juve dei rossi va all'inter giaco va all'inter può essere che giaco anzi tra queste qua forse la notizia forse più sicura è giaco all'inter ma questo di questo faremo un altro video e mi sfogherò mi sfogherò distruggo tutto ma questi sono altri discorsi secondo la società secondo i dirigenti ho detto società dirigenti tranne il giornale secondo i giornali pedraghi ma ancora da roma è già venduto mezza squadra anzi più di mezza squadra perché quest'anno proprio la distruzione si parla di rivoluzione che in teoria si dovrebbe fare ma rivoluzione rimangono le pippe fanno via quelli forti secondo i giornali e può essere pure ma in questo caso mi sparo però manco è arrivato pedraghi già stava a fare tutta sta scenata ora aspettiamo non ha nemmeno firmato e quindi qua si parla anche di acquisti ho letto cose assurde che magari saranno anche vere però ripeto manca ha firmato già stava a fare filmini o pedraghi venendo a roma si vuole portare a mezzo torino in giallo rosso gasperini venendo a roma si porterebbe in mezzo atalanta e quindi che fa ma fusione come con di francesco che ogni due secondi accostavano berardi alla roma ma a parte che veramente con di francesco siamo comprati mezzo sassuolo però pellegrini de frel questo è un altro discorso questa questa è un'altra storia però la cosa positiva è che con pedraghi non sarà più accostato berardi alla roma quindi questo è veramente una soddisfazione un sassolino che ci leviamo dalla scarpa quindi per un calciomercato finalmente berardi non sarà accostato alla roma e forse sarà accostato sempre all'inter la io ma finalmente non è più accostato alla roma ecco qua che berardi fermerà con la roma l'unico anno in cui non viene parlato non ne viene parlato però questo è veramente e speriamo ne no perché ma perché siamo finiti a parlare berardi questo vabbè io apro parentesi non le chiudo apro chiudo apro chiudo il discorso è questo volevo informarvi della situazione petraghi che probabilmente sarà il futuro direttore sportivo della roma per quanto riguarda l'allenatore vi ho fatto l'esempio di gasperini che secondo i giornali se gasperini dovesse venire alla roma si porterebbe mezza atalanta perché che ha chiesto di riportarsi dietro gente tipo gosens tipo derun derun si è parlato per sostituire dei rossi ragazzi io non è che voglio subito mette zizzania però se i nomi che circolano sono veri se le notizie che stanno circolando ovvero delle cessioni degli acquisti diventiamo una fiorentina un atalanta parzia si cavolo lo siamo alla roma sparlotta pata da anni le facciarsi al livello è vero che giocheremo l'europa liglio però cavolo regà io già sofferto quest'anno il prossimo anno mi volete far soffrì cavolo io quest'anno mi è cresciuta la barba per l'ansia il prossimo anno mi cascheranno mi cadranno i capelli non so che dirvi può essere non speriamo di no perché cavolo i miei capellini c'è un posto per dei capelli però vabbè questi giustamente che mi frega stiamo parlando di calcio io vi sto parlando dei miei capelli anche poco professionale però il discorso è questo quindi petraghi battene petraghi battene dalla roma stai smontando la roma petraghi battene petraghi battene battene stai smontando la roma sei un monci sei un monci sono monci sono monci sono monci sono monci sono monci sono monci adios questa è la mia professionalità ragazzi parte finale del video dico cosa a caso dico cosa a caso inizio a dire monci a caso e saluto a caso senza una logica senza un'educazione quindi facciamo un neutro decente seguitemi su instagram pablo giallorosso trattino basso official allora se a questione posso venire qui lascia un like commento iscrivetevi da pablo giallorosso è tutto gesticolato a caso però vabbè adios